Grazie, grazie alle fonti tv per questo invito e grazie a tutti voi per essere presenti oggi qui. Sì, il mio intervento sarà un po' in linea di continuità con quello che è stato detto oggi sulla sostenibilità perché Morningstar in effetti è impegnato ormai in modo molto importante dal 2016 sulla ricerca, sull'analisi, sulla valutazione degli strumenti finanziari anche dal punto di vista della sostenibilità. Ecco perché io oggi volevo dedicare questi dieci minuti per parlarvi di quella che è il nostro approccio, l'approccio nuovo nella nuova metodologia proprio per la valutazione del portafoglio dei fondi e degli etf dal punto di vista della sostenibilità. Lo faccio anche in ragione del fatto che se come vediamo da questo grafico ormai gli asset, il patrimonio che viene investito in modo sostenibile a livello mondiale ha aumentato ed è oggi pari a circa 30 mila miliardi di dollari. Quindi a livello globale c'è stata una crescita soprattutto tra il 2016 e il 2018 che è realmente molto importante dove l'Europa che è indicata in verde scuro nel grafico ha avuto un ruolo assolutamente di primo piano così come gli Stati Uniti che sono partiti dopo l'Europa su questo fronte ma oggi stanno guadagnando anche da questo punto di vista masse significative. L'altro dato che leggiamo su questo grafico è il fatto che comunque la quota di investimenti di asset di patrimonio retail quindi di investitori privati sulla quota totale di investimenti sostenibili è in crescita ed è indicata dalla linea tratteggiata gialla. Oggi siamo a circa un 25% del totale che è appunto di patrimoni investiti secondo criteri sostenibili da investitori retail. Quindi è un tema per gli istituzionali molto significativo e ne hanno parlato nella precedente tavola rotonda ma lo sta diventando anche a livello proprio di investitori privati. L'altra ragione per cui secondo noi è importante che si parli di sostenibilità è anche perché c'è un'esigenza sempre più sentita e lo dimostra anche il nostro osservatorio di capire e comprendere che cosa significa sostenibilità e cercare in qualche modo di avere degli elementi di valutazione e di misurazione. Morningstar nel 2016 ha introdotto per la prima volta un rating di sostenibilità per i fondi quindi legato al portafoglio dei fondi comuni di investimento e degli ETF basato sulla metodologia di Sustain Analytics che è il nostro partner oltre che è partecipato da Morningstar al 40% quindi è una società in qualche modo che fa parte del nostro gruppo. Nel 2016 abbiamo lanciato questo primo rating di sostenibilità che è illustrato da dei globi. Nel 2018 Sustain Analytics ha introdotto il concetto di rischio ESG e quindi di ESG risk rating quindi una valutazione basata sul rischio e mi soffermerò brevemente dopo su cosa significa e nel 2019 cioè a partire dal 31 ottobre quindi è freschissimo diciamo Morningstar ha deciso di portare all'interno della valutazione di sostenibilità dei fondi il concetto di ESG risk rating questo perché? Perché ci troviamo di fronte a un mondo che sta evolvendo c'è una normativa che si sta formando a livello europeo e c'è anche proprio un'evoluzione dell'offerta di questi prodotti prima si parlava appunto di anche evitare ciò che è greenwashing che è uno dei rischi attuali dell'evoluzione di questo settore. Che cosa significa introdurre il rischio ESG all'interno dell'analisi di un portafoglio di fondi? Semplificando molto noi partiamo appunto dall'analisi di Sustain Analytics che definisce appunto il rischio ESG quindi legato a fattori ambientali, sociali e di governance come quel rischio che l'azienda non gestisce quel rischio cioè che è insito nell'attività dell'azienda e l'azienda nel momento della valutazione a cui non riesce a far fronte. La cosa importante è che ci sono due aspetti uno che è quella dell'esposizione e lo mostriamo bene in questa slide dell'esposizione al rischio di un'azienda che è l'esposizione a un rischio che per noi è un rischio materiale cioè è il rischio che un fattore di tipo ambientale, sociale di governance vada ad impattare il valore economico dell'azienda quindi non stiamo parlando di ambiti valoriali ma stiamo parlando di valutazioni economiche un rischio quindi sul valore economico dell'azienda l'esposizione totale e l'esposizione che l'azienda ha anche in relazione al settore a cui appartiene di questa esposizione totale c'è una parte di rischio che l'azienda è in grado di gestire e sta gestendo che appunto è il manageable risk e una parte invece di rischio che non è gestibile cioè pensiamo all'azienda petrolifera che comunque può gestire il discorso delle emissioni inquinanti ma attualmente non lo può gestire al 100% quindi c'è una parte che attualmente rimane non gestibile o pensiamo al trasporto aereo ugualmente non abbiamo attualmente delle fonti alternative alle attuali di questo rischio gestibile c'è una parte che effettivamente l'azienda gestisce ed è quello che la valutazione e l'accertamento che fa Sustain Analytics andare a vedere quanto di questo rischio è gestito quanto di quello gestibile l'azienda non sta gestendo per varie motivazioni perché magari è un'azienda petrolifera che continua con un modello di business più tradizionale piuttosto rispetto ad un'altra che invece ha deciso anche di diversificare in energie alternative e l'ISG risk rating è proprio la parte non gestita che nasce dalla parte che l'azienda potrebbe gestire ma non sta facendo e la parte che di fatto non può gestire perché è intrinseca nel tipo di attività che svolge nell'industria a cui appartiene. Questo approccio è importante perché permette di catturare il tema della transizione quindi chiaramente noi ci aspettiamo che nel tempo queste proporzioni cambino in relazione alle attività che le imprese faranno dal punto di vista della sostenibilità. Lo vediamo rispetto alla precedente metodologia di rating di sostenibilità di Morningstar che era una metodologia invece che andava a valutare quanto buono era il portafoglio del fondo dal punto di vista dei fattori ISG quindi quanto più era sostenibile e ci portava però a dei confronti non perfettamente omogenei tra industrie differenti oggi noi siamo in grado di mostrare, di catturare attraverso il rischio ISG, l'ISG risk rating effettivamente la rischiosità di ciascun titolo, di ciascuna società in relazione all'industria ma in modo perfettamente comparabile con le altre industrie. Quello che è cambiato, non voglio entrare troppo nel tecnico rispetto al passato è che effettivamente oggi i 5 globi che vediamo in questa slide i 5 globi mi vanno a indicare il miglior 10% di fondi nella global category, nella categoria di appartenenza e questo 5 globi vuol dire che sono quei fondi che hanno la minore rischiosità dal punto di vista ISG mentre in passato precedentemente 5 globi mi indicavano un fondo con un buon portafoglio ISG cioè con un'elevata percentuale di società sostenibili perché questa metodologia riteniamo che ci permetta meglio di fare una selezione dei fondi dal punto di vista appunto della sostenibilità perché a questo punto se io vado a scegliere un fondo con 5 globi so che è un fondo che ha un basso rischio ISG al suo interno. Il rischio ISG, lo ripeto perché questo è importante, è sul valore economico di un'azienda e quindi può impattare sul profilo di rischio rendimento di un fondo e quindi è qui che l'integrazione tra analisi finanziaria e tra virgolette non finanziaria ha la sua massima rilevanza e nello stesso tempo voglio anche ricordare che comunque i globi così come le stelle con cui c'è più familiarità probabilmente tra di voi sono applicati a livello di categorie di fondi cioè per gruppi omogenei. È possibile però attraverso questa analisi che fa Mornistar anche andare a fare dei confronti tra fondi di diverse categorie con un valore, con un punteggio assoluto di rischio ISG di portafoglio che è perfettamente comparabile con ad esempio tra fondi azionari Europa e fondi azionari statunitensi quindi appartenenti a categorie differenti. Per riepilogare se io voglio vedere i fondi più sostenibili all'interno di un gruppo omogeneo guarderò ai globi se io voglio comparare fondi che appartengono a universi differenti posso utilizzare il punteggio assoluto. Queste informazioni sono disponibili sul sito quindi gratuitamente per cui questo ci permette comunque di renderli fruibili a chiunque poi c'è tutta un'altra serie di metriche che Mornistar calcola e che sono disponibili invece sulle piattaforme professionali però queste informazioni di base abbiamo deciso di darle a tutto il pubblico di investitori privati, consulenti finanziari, chiunque accede al nostro sito. Ricordando che l'analisi è un'analisi storica quindi che non viene fatta sull'ultimo portafoglio ma su 12 consecutive rilevazioni di portafoglio e che viene attribuito il rating solamente se il 67% degli asset è coperto dall'analisi di Sustain Analytics che è il 67% e la percentuale che riteniamo significativa per poter esprimere un giudizio a livello di Sustainability Rating ma la stessa percentuale ad esempio la utilizziamo per andare a analizzare il livello carbon dei portafogli cioè tra virgolette noi diciamo quanto è inquinato un portafoglio. In base alle nostre primissime analisi di applicazione della nuova metodologia possiamo dire che effettivamente rispetto al passato alla precedente metodologia il 33% dei fondi mantiene lo stesso rating il 43% avrà una variazione di una globo e il 24% di due o più globi quindi in sostanza abbiamo comunque un cambiamento lo potete già vedere perché i calcoli sono già stati effettuati e sono già disponibili un cambiamento che però va nella direzione di rendere più facilmente e mi avvio poi verso anche la conclusione del mio intervento di rendere più facilmente fruibile questo tipo di informazione relativamente all'analisi di sostenibilità dei fondi dei portafogli dei fondi è più facilmente analizzabile perché ora il focus è sul rischio materiale finanziario all'interno del portafoglio quindi io per rischio materiale finanziario intendo un rischio che è effettivamente rilevante per l'azienda per il suo valore economico che può impattare sul suo valore economico posso andare a fare delle comparazioni attraverso su industrie differenti quindi non ho bisogno di fare delle normalizzazioni o calcoli più sofisticati e immediatamente comparabile e in modo semplice e trasparente questa metodologia ci ha permesso anche di inglobare nel calcolo del rating il discorso delle controversie cioè di quegli incidenti che hanno un impatto che può essere più o meno rilevante sulla vita dell'azienda ma anche sul suo valore economico chiaramente una controversia è qualcosa che va a detrimento della capacità di un'azienda di gestire il rischio di sostenibilità con questo approccio Morningstar quindi ha deciso di in qualche modo dare un contributo all'analisi dei portafogli dei fondi dal punto di vista della sostenibilità facendolo su tutti i portafogli di fondi che hanno i requisiti quindi indipendentemente dal fatto che un gestore abbia dichiari un mandato sostenibile all'interno del proprio prospetto informativo, documento informativo e indipendentemente quindi da aspetti più legati invece allo sviluppo di prodotti ad hoc che sono comunque rilevanti, che hanno comunque questo tipo di valutazione però riteniamo che questa metodologia ci permetta anche di andare ad analizzare chi sempre più tra le società di gestione integra nei processi di investimento a livello generale quindi di gamma, di tutta la gamma la sostenibilità che invece nel caso avessimo deciso di analizzare i prodotti sostenibili avremmo perso una parte, una fetta del mercato io con questa ultima slide ho concluso il mio intervento naturalmente rimango a disposizione, non so se c'è tempo ora o comunque successivamente per delle domande e spero appunto che vi sia stato utile grazie a tutti grazie 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 grazie